Mi trovo a Canna Longa, sto per incontrare, è già con me il vicepresidente della Proloco Antonio De Vita, fra poco arriverà la presidente Annella Manzorini, i quali ci parleranno del prossimo evento che ci sarà venerdì, sabato e domenica qui a Canna Longa. Presidente, 2019, nuova edizione di notte di mezz'estate. Sì, proprio venerdì prossimo, 19, 20 e 21, ci ritroveremo sul Corso Europa per dare inizio alla nuova edizione delle notti di mezz'estate, come al solito tradizione che contraddistingue sempre Canna Longa per dare il via a questa nuova stagione che comunque sarà piena di impegni insieme anche alla Festa dell'Aglio che si farà la prima settimana di agosto. Poi avremo modo di parlarne. Sì, 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 ne parleremo approfonditamente. Ci fermiamo sulle notti di mezz'estate, 19, 20 e 21, musica popolare, tradizione, no gastronomia, insomma veniteci a trovare. Sicuramente nelle tre serate ci saranno anche delle rappresentazioni, ossia delle mostre fotografiche, il primo giorno a cura di Vincenzo Rociolo e anche di altri fotografi, diciamo, cannalonghesi. La seconda sera invece, il 20, ci sarà la rappresentazione di un libro a cura di Vermiglio e Donnaluna. E infine la terza sera invece ci sarà una mostra pittorica di un'artista contemporanea cilentana. Lo scorso ci eravamo specializzati nelle zeppoline di verdura che ritrovavamo nel mercato contadino che qui si fa il sabato. Quest'anno ce ne andiamo più sul tradizionale. Il nostro stand preparerà dei frisì di cannalonghesi, pomodori cannalonghesi, vino e poi ci sono altri stand che preparano comunque delle tipicità cannalonghesi. Quest'anno diciamo che siamo anche molto concentrati sulla cultura, come ha detto pure il Vicepresidente. Mostre, libri, abbiamo dato anche un'altra tipologia di svolta alla manifestazione perché abbiamo bisogno del vino, del cibo, ma abbiamo bisogno anche di portare avanti la cultura cilentana, gli artisti cilentani perché ce ne sono e ce ne sono anche tanti. Presidente, gli appuntamenti, diciamo, adesso abbiamo quindi notte di medestate, poi la festa dell'aglio, qualche altra cosa oltre... Volevamo cercare di portare, naturalmente la fiera poi a inizio settembre, durante questo intervallo, agosto-settembre, volevamo cercare di portare in auge il palio dell'Assunta, visto che quest'anno sarà anche il settenario dell'Assunta, importante tradizione nella cannalonga, quindi cerchiamo anche di organizzare questo palio che riunisce tutto il paese anche in un periodo in cui anche i forestieri ritornano al cannalonga. Grazie a tutti!